Una scelta che divide quella operata dal PD e da Vallata dalla Svopè sulla candidatura di Maria Elena Boschi nel collegio Bolzano-Bassa-Tesina della Camera. Scelta che secondo l'ex presidente della giunta provinciale di Bolzano, Luis Dornwalder, potrebbe avere come conseguenza forti mal di pancia, se non peggio, nell'elettorato di lingua tedesca. Ho sentito che qualcuno non vorrebbe andare a votare e questo sarebbe un danno anche per la parte proporzionale perché i voti che danno al candidato o alla candidata del collegio nominale valgono indirettamente anche per l'elezione dei candidati da proporzionale. Per Dornwalder sarebbe stato decisamente meglio un candidato locale. Io personalmente avrei preferito un bravo rappresentante locale del PD. Ho sentito anche che Moschi è stata brava, ci ha appoggiato quando abbiamo portato certe iniziative a favore dell'autonomia eccetera. Però se conta solo questo allora noi in passato avremmo dovuto nominare per un seggio sicuro Moro o anche Andriotti o anche diciamo Romano Prodi. Dornwalder spiega che le colpe sono da attribuire in ugual maniera a PD ed SVP e partiti REI dice di non aver tenuto in debito conto quanto detto dalla Boschi alcuni anni fa. Come mi sembra o almeno come mi ricordo non era sempre diciamo a favore di autonomia. Ha scritto un libro e poi ha fatto anche interviste dove diciamo dice non è giusto avere queste autonomie in questo senso. Non ha fatto eccezione per l'altoare di Cessu Tirol. Non è giusto per l'altoare di Cessu Tirol.